Quello che noi vogliamo è cercare con il nostro progetto di riuscire ad approcciarci nuovamente dei nostri spazi, quindi utilizzare il nostro verde con l'idea di installare un percorso vita. Il progetto prevede l'acquisizione da parte della biblioteca in zona 3, la biblioteca centrale, una serie di titoli in lingue, di letteratura e l'acquisizione anche degli stessi titoli in lingua italiana. Perché riqualificare lo spazio Talabucci? Per noi è uno spazio, è un gioiello della città, un gioiello un po' trascurato e allora pensiamo che sistemare proprio quello che c'è all'interno dello spazio migliorerà poi l'utilizzo da parte dei cittadini che lo frequentano e di tutti quei soggetti, organizzazioni, associazioni, insomma tutti coloro che organizzano degli eventi culturali. Il progetto consiste nella riqualificazione di un'area troppo a lungo abbandonata e lasciata alla merce di qualsiasi avventure. Gli obiettivi sono quelli di garantire sicurezza ai concittadini e incentivare l'utilizzo dell'area in modo più civile e legale. Gli interventi che vorremmo fossero effettuati riguardano la creazione di un'area verde con arbusti tappezzanti insieme ad un impianto di irrigazione con la posa di un contatore, lampioni a led per illuminare adeguatamente la zona e la posa di cestini per i rifiuti.